Se ti interessa acquistare crediti FIFA scontati, clicca il link in descrizione. Abbiamo 5 pacchetti per questi pacchetti mega e adesso andiamo a provare a vedere se troviamo qualcuno. Ho messo il cappello rosso perché era la cosa più natalizia che avevo in casa, perché ho perso il mio berretto di babbo natale. Ma adesso bando alle ciance, ciancio alle renne e ci andiamo ad aprire il primo pacchetto da 35.000 crediti. E via con sto primo pacchetto. Dai, 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 dai. Dammi qualcosa. Cazzo, cazzo cazorla, che se mi uscivi tre giorni fa e rif, pezzo di fango. E in più un giaccherini che ti guarda con aria molto molesta. Ti prego, ieri, fammi il regalo di Natale, tante, tante, non so, vale qualcosa, tante? Non vali un cazzo. 3 pacchetti mega. Dai, terzo pacchetto. Ti prego, ieri, fammi il regalo, fammi il regalo, fammi il regalo, fammi il regalo di Natale. Benzema, benzema vale qualcosa, ce l'abbiamo già, è doppione, ma benzema vale qualcosa. Alaba, vale qualcosa, lo so. Sei nero e veloce, vale. Porco giuda, quanto cazzo costa? Cristo, questo è un super pacchetto. E infatti, benzema, benzema, quanto vale? Abbiamo fatto 100.000 crediti con un solo pacchetto. Buonissimo, ragazzi, buonissimo. Altri due pacchetti, ci ha già regalato qualcosa questo gioco. Sono fierissimo, ci ha ripagato i pacchetti che abbiamo scartato prima. Dammi qualcosa, dammi qualcosa. Che cagawa dei pacchetto. Questi pacchetti mega, solo uno, era buono. E andiamo ad aprirci l'ultimo. E poi andremo ad aprire i 20 restanti dei pacchetti oro rari. Dai, dammi qualcosa. Oh, cosci e il nì, cosci e il nì vale qualcosa. E infatti, cosci e il nì vale, vale qualcosa. Tutto il resto è un poco spazzatura. Tu sei soprattutto, sei spazzatura, non guardarmi così, eh. Signori, abbiamo ufficialmente finito i pacchetti mega. E adesso ci andiamo ad aprire 20 pacchetti. Abbiamo 49 minuti, quindi ci dobbiamo pure sbrigà. Andiamo ad aprire subito il primo pacchetto. Dammi qualcosa che mi costi 15.000 ogni po'. Cosci e il nì di nuovo. Il cino. Mamma mia, ne abbiamo un botto da aprire. Altri 19. Sperando che ci faccia questo benedettissimo regalino. Sciurle. Tu valevi qualcosina. Più di 20.000, più di 20.000. No, non vale più di 20.000. Ma questo è il cina senza gli occhiali. È quello di prima, è lo stesso. Cioè, la Ye non si può permettere due tizi diversi per le foto. Hanno messo lo stesso tipo per l'uno e per l'altro, solo che una volta non c'aveva gli occhiali. Eccolo qua. Dammi qualcosa che mi sono ucciso. Oh, uniforma! Oh, oh! E vai! Non varrà un cazzo! Fermi tutti, vale qualcosa. Prima in forma del pack opening. Vediamo un po' nei doppioni che ci sta. Oh mio Dio, ma che guaio stai a passare, gabbia di... Ma che hai fatto prima di fatta sta foto? Dai, dammi un'altra gioia. Dammi un'altra gioia. Fiffa, ti prego. Dai che oggi, oggi stai giocando bene, Fiffa. Smalling, ecco l'ho detto io. Questo sta di... Non mi fai foto, che t'ammazzo. Apriamolo col joystick al contrario, va a sto pacchetto. Vediamo un po'. Portami bene. Eh, premo l'analogico sbagliato io. Dai. Dai, lo so che tu mi vuoi bene, Fiffa. Lo so che mi vuoi regalare altri buoni pacchetti. Dai, dai, lo so, lo so. Kyle. Kyle costa effettivamente. Vale, vale, va bene, va bene, va bene. E tutto il resto è una presa in culo, infatti. Abbiamo notato che il joystick al contrario non funziona e neanche tenerlo dritto. Oh, cazzo! Ma da dove cazzo t'hanno tirato fuori a te? Volete non scherzi, eh? Pacchetto de naso... E manco... Eh, sono un coglione... Oh, l'ho perso io, ok. Pacchetto di naso, dammi qualcosa. Dammi qualcosa col pacchetto di... Rossi, cazzo. Ivanovic. I giocatori della BPL costano effettivamente, ragazzi. Costano tutti relativamente tanto. Ce ne restano sette. Dai. Dai, su. Dai. Dai, dai, dai. Dai, dai. Dai, dai. Sì, 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 sì. E gozze, e gozze. E vai! Questo è un gran pacchetto. Questo è un grandissimo pacchetto. Vaffanculo. Perché abbiamo beccato uno dei migliori della squadra della settimana. Buonissimo, mi stai regalando gioie finalmente, Cristo santo. Ci hai dato anche una puttana. Grande FIFA. Fa piovere i soldi. FIFA mi sta facendo il regalo di Natale. Dammi qualcosa. Vaffanculo. Cinque pacchetti. FIFA. Dammi qualcosa. Dammi qualcosa. Dai, ti prego. Sto anche ballando, mi sto rendendo ridicolo per te. Dai. Dammi qualcosa. Oxlade Chamberlain e Cavanda. Ma quanto corre Cavanda? Orco Giuda Cavanda. Mi si è bloccato FIFA. Ah, no. Ecco, si è sbloccato. C'è. FIFA, no? Manco Photoshop, sapete? Ma quanto puoi essere sfigato te, ragazzi? Sei l'unico. E sei pure pelato in tutto questo. Quindi se vede ancora di più lo sfondo. Questo sarà buono. Questo me lo sento. Questo me lo sento, ragazzi. Non guardo, eh. Non guardo, non guardo. Non guardo. Cosa c'è uscito? Oh, mio Dio. Compagni! 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 Questo vale. Questo vale qualcosa. Me lo sentivo che c'era qualcuno di buono. Compagni! Guarda quanto cazzo costi! Dai, altri due pacchetti rimasti. Altri due. Mi stai regalando veramente tante emozioni stasera FIFA. Continua così. Continua così. No. Ultimo pacchetto di questo pack opening. Puzzle joystick. Dammi qualcosa. Dammi qualcosa. Ti fre... Niente. Cazzo. Signori belli. Abbiamo fatto un mega pack opening. Questo Natale. Questo Santo Stefano. Perché ormai è passata la mezzanotte. Non è più Natale. Il cappellino natalizio ha portato fortuna che il Natalizio non è, però è il rosso. Quindi va bene. Ditemi nei commenti cosa avete trovato voi nei pacchetti questo Natale, con questi pacchetti natalizi o anche comunque in questo periodo cosa avete trovato. Dai, per questo pack opening ragazzi arriviamo a 10.000 likes. Fatemi il regalo di Natale in ritardo perché se riesco ve lo faccio uscire proprio oggi che è il 26. Se no anche il 27. Comunque lo avrete molto presto. Vabbè, se lo state vedendo comunque già lo avete avuto. Quindi ciccia. Vi ricordo i social. Seguitemi su Instagram e su Facebook. Scrivetemi nei commenti cosa vi ha portato Babbo Natale e cosa vi ha regalato FIFA quest'anno. Però per oggi è tutto ragazzi. Sodin vi saluta. Bella. Giozzem! Dele entra e col! Esulta! No, non lo fare che ti ammazzi. Sei incollato al palo.